Hai bisogno di lasciare la biblioteca per una pausa lunga o andare a lezione? Vuoi dare la possibilità agli altri di sedersi temporaneamente al tuo posto fino al tuo ritorno? Chiedi il segnaposto al servizio accoglienza al piano terra dove il bibliotecario inserirà il timbro dell'università, il timbro della data odierna e il tuo numero di matricola. Ricorda che il segnaposto è personale e non può essere richiesto per altri utenti. Tornato al posto compila il segnaposto inserendo la tua firma, il numero del posto che stai liberando, l'ora in cui lasci la biblioteca e l'orario di ritorno il più possibile preciso tenendo conto che puoi liberare il posto fino a un massimo di 3 ore. In caso di ritardo rispetto all'orario indicato questo verrà considerato non valido. Dopodiché metti in ordine i tuoi oggetti personali lasciando il più possibile sgombero usando il segnaposto per informare gli altri utenti che il posto è libero. In questo modo gli altri utenti possono sedersi durante la tua assenza fino al tuo ritorno. Qualora i dati del modulo siano incompleti o errati il posto sarà considerato libero e altri utenti potranno sedersi. Lo stesso si applica nel caso in cui il posto venga occupato con libri o da altri oggetti personali senza utilizzare il segnaposto.